Ciao a tutti ragazzi e ragazze benvenuti in questo nuovo video oggi siamo qua perchè come avete già letto dal titolo andremo a provare un app che si chiama Gacha Club che è simile a Gacha Life quindi ragazzi guardate tutto il video e ora non perdiamo altro tempo e andiamolo a installare ed eccomi qua su Gacha Club mi sono appena creata il mio Oc ho notato anche che questo è meglio di Gacha Life perchè puoi cambiare le face direttamente qua e non ha pubblicità cioè è proprio bello e poi ho notato che ci sono molti che ci sono molti più molti più sfondi tipo questo su Gacha Life non c'era oppure questo non c'era cioè qualche volta qua ci farò degli Elitz ma intanto ragazzi questo video finisce qua abbiamo provato che Gacha Life che è Gacha Club è una bella app e ci vediamo al prossimo video ciao ciao